Buongiorno! Oggi è l'ultimo giorno di scuola, finalmente! Un po' di riposo ci voleva. Adesso vado a svegliare le bimbe perché stanno ancora dormendo. E voi avete già finito la scuola? Bimbe! Bimbe! Vane! A scuola, amore! Ani! Ehi! Piccola! Ultimo giorno! Andiamo a scuola! Amore! È l'ultimo giorno, amore! Vai che poi siamo a casa per le vacanze di Natale! Piccola! Ehi! Andiamo a lavarci? Eh? Ok! Buongiorno, bimba! Abbiamo litigato con il lenzuolo stanotte! Buongiorno! E si vede il materasso! Buongiorno! Buongiorno! Ce lo dai un buongiorno a tutti? Buongiorno! Noi sono! Vabbè dai, domani torno! Pimba si alza? Eh? Ci svegliamo? Su! Dai che dobbiamo andare a scuola! Sveglia! Ani! Sì, amore! Buongiorno, amore! Come stai? Male! Male? Perché? No, bene! Ah, avevo capito male! Sei contenta? Oggi è l'ultimo giorno, finalmente! E da domani si dorme! E arriva Babbo Natale! Sì! Dai, su! Adesso lavati, amore mio! E ci vediamo dopo! Ciao! Ciao! Yes! Vanessina si sta svegliando! Il cagnolino! Ciao cagnolino! Lo sai che l'ultimo giorno di scuola da domani non si va più a scuola? E poi arriva Babbo Natale e ti porta un ossicino! Vale? Eh! Vestiti! Pum! Vestiti! Ora vi faccio vedere la maglia! Dai, facci vedere il tuo outfit di stamattina! La maglia! Bellissima! Un cagnolino! Bellissimo! Ti si metti così! Sì! Poi le calze! Bellissima! Stupendi! Con i brillantini! No, scherzo! E... I pantaloni! I pantaloni! Oh, che bella! Adesso, amore, vestiti perché tra pochi minuti dobbiamo andare a scuola e dobbiamo ancora preparare la merenda! Ah, no! Eh! Dobbiamo prendere lo zaino! Sì, sì, lo portiamo! Ok? E deve consegnare tutti i libri e i quaderni la maestra Laura! Ah! Dai, amore, su! Che dobbiamo ancora preparare la merenda! Ascolta, vado in macchina ad accenderla, eh! Così si sbrina! Arrivo! Ciao! Non so voi, ma qui gela la mattina e immagino anche da voi! Quindi tutte le mattine, dieci minuti prima di partire, scendo, salgo in macchina e le accendo! Eccomi qua! Poche merenda hai scelto stamattina! Bravissima, amore, molto bene! Vieni, ho portato una mela! Metti la banana in cartella e vestiti che andiamo, dai! Cosa bevo? L'acqua! Hai la bottiglietta d'acqua in cartella! Volevo il zucco! Qua metto i libri! Poi la cosa per andare in bagno! Qua i quaderni e gli astucci! Ok, il diario c'è? E dove c'è? Sì c'è! C'è? Ok, amore! E questo è lo zainetto di Anastasia! Guardate che bellino! Stupendo! Tutto glitterato! Dai, andiamo! Che è tardi! Amore, cambiati la fascia! Perché quella di prima con la frutta è un pochino estiva! Ma giusto un attimino! Io ho sete! Eh, bevi e poi andiamo! Quante volte te l'ho già detto che dobbiamo andare stamattina? Prima ho già bevuto così! Col pulcino Pio? Hai il bicchiere col pulcino? Sei piccino anche tu! Guardate papà che casino che ha fatto ieri sera! Perché? Guarda, mi faccio vedere! Per sapere che abbiamo fatto alcuni lavori in casa nelle scorse settimane! Abbiamo pitturato, abbiamo tolto un mobile, abbiamo chiuso, abbiamo creato una stanza in più in cucina! Dove abbiamo fatto una dispensa! Quindi papà sta ancora lavorando e sta ancora facendo qualche lavoretto! E abbiamo un po' la casa sotto sopra! Volete vedere la nostra dispensa nuova? Oh, eccola qua! Che bella! Questa porta, vedete, prima non c'era! Ma c'era... Era tutto aperto e c'era un mobile! E poi ci abbiamo creato una dispensa nuova dove mettiamo un po' di pappa e qualcos'altro! I libri! Non so dove li ha trovati! Il mio green screen portatile! E la non è sacca! Buon bambino, allora, dai, io vado! Ciao, 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 ciao! Ah, ci siete anche voi! Venite anche voi a scuola! Ah, scusate, mi chiudevo in dispensa! So, amore, dai! Sono le 8.20 e noi siamo ancora a casa! Sei pronta? Sì! Ma che bel cappellino stamattina! Fatti, fatti, fatti! Guardate il mio cappellino, che bello che è! Poi, il mio è l'ultimo giorno di scuola, quindi sono felici! Però anche che giochiamo, quindi perfetto! Oggi siamo alle 2 del pomeriggio perché facciamo una merenda lunga, poi giochiamo e pranziamo, quindi sono felicissima! Ma che giochi faremo, ovviamente, non so... Com'è che si chiama quel gioco che facevamo, ma non molopoli? Luedo! Luedo, cosa che Luedo? Ma noi a scuola! Ah, tombola, tombola! Faremo o quello, o altri giochini, belli, carini! Ma vuoi in ballo anche di Natale, quello che le ha insegnato la maestra Lucia? Ah, anche? Eh! No, no, no! 3, 2, 6, insomma! A dopo! Ciao! E siamo arrivate, ci vediamo dopo, buona giornata, a dopo! Ciao! Ok, tocca ad Anastasia che non vuole assolutamente essere ripresa, e io non la riprendo, la mattina è un po' arrabbiata, un po' stanca, però ha detto che quando uscirà da scuola vi saluterà. Noi ci vediamo all'uscita della scuola e buona mattinata a tutti! Ciao! A dopo! Amore, è finita! Sì, lì c'è il Natale! Vi resta facci vedere cosa ci ha dato la maestra. Sì, fammi vedere cosa vi ha dato la maestra. Allora, prima che ci ho messo me, guardate! Guardiamo! Wow, che buono! Poi? La merendina, un cioccolato? Sì! Ma che buono! Tante cose! Tante cose! Tante cose! Veramente! Sì! Il cappello di Natale! Fa vedere? Sì! Ti è arrivato indietro il cappello di Natale! Sì! Vediamo un po'? Sì! Tata! Wow! Tutto il materiale che avete fatto! Sì! Beh, è tutto natalizio? Eh sì! L'abbiamo fatto due perché uno l'abbiamo fatto! Eh! L'abbiamo fatto un altro giorno e anche questo l'abbiamo fatto un altro giorno! Perché la maletta non sapeva che non l'abbiamo fatti due noi! E vi piace? E quindi ve l'ha fatto rifare! Mi piace, fatto! Vediamo! Bellissimo, amore! Con tanti regali e in quarta invece il mio pigiama! Ah sì? Ah! Sì! Proprio bello! Brava! Ho fatto anche la mia bossetta! Mi sono dimenticata la bossetta di vani e vabbè! E vabbè, fa niente! Tanto vuoi papà! A Natale me la farà! Eh certo! Sì! Senti, adesso tra un po' andiamo a prendere vani, ok? Sì! Eh? Andiamo a casa a fare merenda! Va bene! Adesso dopo ci vediamo a casa che io guardo la tv mentre faccio merenda! Ciao! Ti rilassi finalmente! E te invece mi ritengi? Ok! Ciao! Io sono Anna Spoglia che le chiediamo in macchina! Sto guardando la tv mentre mangio cioccolatino! Adesso voglio vedere come cioccolatino! Finalmente inizia il tuo relax, Ani! Eh? Le vacanze di Natale, tanto attese! Vediamo un po' questo cioccolatino! Profuma! Per me è il cioccolato al fondente! Mmm buono! Quello che piace a me! Allora lo dai a me! Vero? Noi! Te l'ha dato l'amore! Te l'ha dato l'amore! Che beee! Che beee! Che beee! Ci possiamo mettere... Possiamo compiere la nutella e mettere la finita! Ah! La nutella sul cioccolato? Sì! Ho il latte! Direi che è un po' troppo! Però adesso non c'è! Va bene amore! Dai! Mangia il tuo cioccolatino! Guardate come lo mangio! Guardate! Guardiamo come lo mangia! Perché secondo me come lo mangia lei il cioccolatino non lo mangia nessuno! Mmm! Deve essere buonissimo quel cioccolato! Vero? E come penso? E guardate come lo mangia! Va bene! Dai amore! Ci vediamo dopo quando andiamo a prendere le mani! Ok? Ciao ciao! È finita! È finita! Siamo in vacanza! Come ti senti? Felice? Non tanto perché mi mancano compagni e cose così! Vabbè però sono solo due settimane però ci riposiamo! Almeno dormiamo un po' la mattina! Sì! Dai sei contenta? Sì! Mi è andata bene oggi vi siete divertiti? Avete festeggiato? Avete bevuto? Avete mangiato? Sì! Eh? Sì! Allora amici anche Vanessa è uscita da scuola! Finalmente iniziano le vacanze! Finalmente iniziano le vacanze di Natale! Adesso andiamo a casa e poi ultimo pezzettino dei saluti con Anastasia! Ok? Ciao! La modalità relax per Vanessina che sta facendo la sua merenda dopo lo stress psicologico della scuola! Vero amore? Anastasia vieni che facciamo i saluti! Dai! Ciao a tutti ragazzi! Il nostro video della nostra ultima giornata di scuola finisce qua con Vanessina che continua a gustare i suoi chipster! Mentre Anastasia voleva farvi vedere una cosa! Che cosa? La nostra è una cosa che la faccio oggi! Vi piacciono? Oggi sono andata dalla parrucchiera per l'ennesima volta perché non so se ve ne siete accorti ho tagliato i capelli e oggi ho fatto un po' di colpi di sole color ramato perché a me piace molto però avrei voluto farli rosa! Allora amici il nostro video finisce qua! Iscrivetevi al canale! Attivate anche apparello! Yeah! No perdetevi i nostri video adesso ne faremo tantissimi perché siamo a casa in vacanza e ci vediamo a Natale con l'arrivo di Babbo Natale! E poi possiamo fare anche un video dove possiamo bicciare Babbo Natale senza farci sentire quando facciamo il video! Quando facciamo il video per sbirciare Babbo Natale fate silenzio amici! Se no Babbo Natale scappa! Se ci sente scappa e non ci lascia i regalini! Se li lancia si rompono! Lasciate un bel like e condividete il nostro video con i vostri amici! Ciao!